Buongiorno a tutti e bentrovati. In qualche video precedente abbiamo parlato di come poter allestire le nostre fioriere, delle fioriere che troviamo sui terrazzi, sui balconi di casa. Un esempio concreto oggi ve lo riporto io. Questa è una fioriera, è la nostra fioriera, ed è una fioriera in corten. Il corten è un materiale navale molto resistente all'acqua, alla pioggia, sembra quasi arrugginita, ma in realtà è proprio l'effetto di questo tipo di materiale. Questa fioriera può essere invasata, come abbiamo detto in precedenza, con degli equisedi. Questa pianta che è sempre verde, che non fa fogli e non fa fiori, quindi tra l'altro davvero richiede pochissima manutenzione. Come si può fare? Innanzitutto questa fioriera deve essere riempita di terra, diciamo un due quarti di terra, e poi il nostro equiseto verrà svasato e verrà inserito all'interno della fioriera. Ora qui ve le metto a effetto un po' più alto per farvi vedere più o meno l'effetto finale, quindi uscirà una cosa così molto carina e molto bella da vedere. Immaginatela piena comunque sia, piena di equiseti, con un'altezza che crescerà nel tempo e rimarrà sempre verde. Vi ricordo che per fare questo potete sempre contattarci sui nostri canali social o sul nostro sito www.waternarsely.it, di modo da potervi dire esattamente le misure e la quantità esatta della pianta che servirà per la fioriera, per la vostra fioriera. Buona giornata a tutti, al prossimo video!